Invece ci fa, alla Juve, i conti in tasca, Leonardo, io li faccio a lui, giocatori persi in due anni, Morata, Pirlo, Tevez, Vidal, Pogba, Pereira, Zazza, Llorente, giocatori presi negli ultimi due anni, Higuain, Dybala, Pjanic, Lemina, Hernanes, Alves, mi dite come fa a essere più forte la Juve. Ma io ho sempre detto che purtroppo, se noi consideriamo il super centrocampo, Pirlo, Pogba, Marchisio e Vidal, quello era forse uno dei centrocampi più forti del mondo, ci siamo indeboliti sotto quell'aspetto. Io dico che il problema non è aver ceduto Pogba, il problema grosso è non averlo sostituito, eppure c'è un bilancio, come si vede nel ricavi record, quasi 400 milioni di euro. Notizia di oggi ufficiale, la Juve con 397 milioni, 4 milioni di utili di bilancio. Quindi voglio dire, si potevano allargare un po' i cordoni della borsa.